Hai mai sentito parlare del Venezuela come del paese delle donne perfette? Un luogo dove la bellezza naturale e quella culturale si fondono in un mix straordinario che ha dato al mondo alcune delle donne più affascinanti e carismatiche di sempre. Il Venezuela non è solo noto per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua cultura vibrante, ma anche per aver prodotto un numero incredibile di vincitrici di concorsi di bellezza internazionali, come Miss Universo e Miss Mondo. Ma cosa rende la bellezza venezuelana così speciale? E come si collega questa bellezza alla storia, alla cultura e alla società di questo paese straordinario? Benvenuti su Spunti di Viaggio! Sono felice di avervi qui oggi mentre esploriamo insieme il Venezuela, un paese che ha molto da offrire, dalle sue incredibili donne alla sua ricca storia e cultura. Se siete nuovi al canale, vi invito a iscrivervi e a unirvi alla nostra comunità di viaggiatori appassionati. Lasciate un commento con le vostre esperienze o impressioni sul Venezuela. Siamo curiosi di sentire il vostro parere. Per capire il presente del Venezuela, è essenziale dare uno sguardo al suo passato. La storia del Venezuela è lunga e complessa, segnata da conquiste, lotte per l'indipendenza e una ricca eredità culturale che risale a migliaia di anni fa. Gli indigeni, i primi abitanti del territorio, vivevano in armonia con la natura molto prima dell'arrivo degli europei. Nel 1498, Cristoforo Colombo mise piede in Venezuela, segnando l'inizio di un'era di colonizzazione da parte della Spagna. Da allora, il paese ha vissuto momenti di grande prosperità, alternati a periodi di conflitto e instabilità. L'indipendenza del Venezuela fu ottenuta nel 1821 grazie agli sforzi di Simon Bolivar, un eroe nazionale e figura centrale nella storia sudamericana. La sua lotta per la libertà ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei venezuelani, che ancora oggi onorano il suo legato. Durante il XXI secolo, il Venezuela ha attraversato diverse trasformazioni politiche ed economiche, culminando con la scoperta del petrolio che ha dato al paese una posizione strategica sullo scenario mondiale. Il paese è celebre anche per i suoi paesaggi mozzafiato, che includono la cascata più alta del mondo, il Salto Angel e la vasta distesa della savana del Gran Sabana. Ma il Venezuela è anche sinonimo di bellezza femminile. Il paese ha prodotto più vincitrici di Miss Universo e Miss Mondo rispetto a qualsiasi altra nazione, guadagnandosi una reputazione come patria delle donne perfette. Questa attenzione alla bellezza non è solo estetica, è anche un riflesso della cultura venezuelana, che celebra l'empowerment femminile e il fashion come forme d'arte e espressione personale. Quando si parla di attrazioni in Venezuela, è impossibile non menzionare i suoi spettacolari paesaggi naturali. Se state pianificando un viaggio in Venezuela, ci sono alcuni luoghi che non potete assolutamente perdere. Il Parco Nazionale Canaima, che ospita il Salto Angel, è un vero gioiello della natura. Questo parco offre una combinazione unica di foreste tropicali, fiumi impetuosi e montagne maestose. Il delta dell'Orinoco è un'altra destinazione imperdibile, dove è possibile esplorare la fitta giungla e incontrare le comunità indigene che ancora vivono in armonia con la natura. Le spiagge dei Caraibi venezuelani sono famose in tutto il mondo per la loro sabbia bianca e le acque cristalline. Località come Los Roques e Margarita attirano turisti da tutto il globo, offrendo un mix perfetto di relax e avventura. E per gli amanti delle montagne, il Pico Bolivar, la vetta più alta del paese, offre viste panoramiche indimenticabili e una sfida che vale la pena affrontare. La cultura venezuelana è un mix affascinante di influenze indigene, africane ed europee. Questa ricca eredità culturale si riflette nelle tradizioni, nella musica, nella danza e nelle celebrazioni che animano il paese durante tutto l'anno. Il Carnevale di El Callao è uno degli eventi più famosi, un'esplosione di colori, musica e danza che attira visitatori da ogni parte del mondo. Altri eventi di rilievo includono la Feria della Chinita a Maracaibo, che celebra la Vergine della Chiquinquirá, e la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitven, che promuove il turismo e mette in mostra le attrazioni del paese. La moda venezuelana, influenzata dalle tendenze globali ma arricchita da un tocco locale, è un altro aspetto della cultura del paese. Gli stilisti venezuelani hanno guadagnato fama internazionale e le donne venezuelane sono conosciute per il loro stile impeccabile e la loro eleganza naturale. Le donne venezuelane sono famose in tutto il mondo non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro forza, intelligenza ed eleganza. La bellezza venezuelana è un mix di tratti latini ed europei, caratterizzata da occhi grandi, pelle radiosa e una figura armoniosa. Ma oltre alla bellezza esteriore, le donne in Venezuela sono riconosciute per il loro empowerment femminile e il loro ruolo attivo nella società. L'educazione è un altro aspetto importante. Molte donne in Venezuela sono altamente istruite e occupano posizioni di rilievo in diversi settori. Per quanto riguarda il comportamento sessuale, la cultura venezuelana è piuttosto aperta e tollerante. Le relazioni interpersonali sono spesso caratterizzate da una forte passionalità e da un profondo rispetto reciproco. La vita notturna in Venezuela è vivace e varia, con un'ampia gamma di opzioni che vanno dai club moderni alle tradizionali tasca, dove si può ascoltare musica dal vivo. Le grandi città come Caracas, Maracaibo e Valencia offrono una vasta scelta di locali notturni, ristoranti e bar, dove è possibile immergersi nel lifestyle venezuelano. Gli incontri amorosi in Venezuela sono spesso appassionati e intensi. La cultura venezuelana valorizza molto le relazioni personali e l'amore è vissuto con grande intensità. È comune vedere coppie giovani e meno giovani che si corteggiano con gesti romantici e la famiglia gioca un ruolo cruciale nella scelta del partner. La gastronomia venezuelana è un altro motivo di orgoglio nazionale. La cucina del Venezuela è ricca di sapori e tradizioni, con piatti che variano da regione a regione. Uno dei piatti più iconici è la repa, una sorta di focaccia di mais che può essere farcita con una varietà di ingredienti, dalla carne al formaggio, fino ai frutti di mare. Un altro piatto popolare è il pabellon criollo, considerato il piatto nazionale, composto da riso bianco, carne sfilacciata, fagioli neri e platano fritto. Anche i dolci venezuelani meritano una menzione speciale, con prelibatezze come il quesillo, simile al flan, e la torta tres leques. Il caffè venezuelano è un elemento fondamentale della vita quotidiana e il paese è rinomato per la qualità del suo caffè. Infine, non si può parlare di gastronomia venezuelana senza menzionare il rum, una delle bevande alcoliche più esportate del paese, apprezzata a livello internazionale per la sua qualità. Questo è il Venezuela, un paese di bellezza naturale mozzafiato, cultura ricca e tradizioni vivaci, ma soprattutto un paese di donne forti, eleganti e perfette, che rappresentano l'essenza del fascino venezuelano. Dalla storia del Venezuela alla sua incredibile gastronomia, passando per la vita notturna e gli incontri amorosi, il Venezuela è un luogo che merita di essere esplorato e apprezzato. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti su destinazioni affascinanti come il Venezuela. Lasciateci un commento qui sotto e fateci sapere quali altri aspetti di questo straordinario paese vi piacerebbe scoprire. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo video di Spunti di Viaggio.